Sabato 18 aprile 2015, 14 e 16 minuti, dunque una canzoncina giusto per accompagnare questo sabato pomeriggio, per annuncio che da fuori sta venendo su un bel temporale, si è alzato un vento, speriamo che non faccia danni. Con l'occasione vi voglio cantare la canzone di Bertoli Emanoia, pescatore. Buon ascolto. Buon ascolto. troppo sana nella mia che del sole non fritte e colore la mia pelle è bianca la mia pelle è bianca ha bisogno di carezza e bianco ha bisogno di carezza e dolore pesca pesca forza di la pesca tua pesca in ticolore poco pesce nella rete non c'è ogni mezzo al mare mare che non c'è mai da trattare il mare che fa le stemmiare quando la sua femmina diventa grande la sua tomba è usciglante la sua tomba è usciglante oi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pesca forza, tira pescatura, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni ma con l'ora. Mare che non ti ama e dato tanto, mare che fa bestemmiare. E si fa a te piace senza resa e ti aspetta per ricominciare, ti aspetta per ricominciare. E dunque era pescatore di Bertoli e Manoia e con questa canzone auguro a tutti voi un splendido, splendissimo, buon pomeriggio e niente. Alla prossima e mi raccomando, mi piace, se volete un commentino, mi dite se vi piace, se vi va. Ok, perché comunque arriva diritto, diritto ai vostri cuori, lo riscalda e genera in voi un spritz particolare, qualcosa di fantastico che solo le cose vere, simpatiche, intense colpiscono il vostro cuore. Grazie, quindi buon pomeriggio ancora, buon sabato, 18 aprile 2015, sono le 14.22 minuti in questo istante, buon ascolto e buon pomeriggio. Grazie.